Noi, che state? Ciao, possiamo farci una foto? No, ragazzi. Sedete qui al bar con me se volete fare. Sedete e prendete un caffè con Ben. Siamo tu i fan. Ok, sedite allora. Beviamo un caffè con lui, dai. Dai, bevete un caffè con Ben. Mi sento solo oggi, per favore. Ci siamo. Vi va bene? Avete da fare? No, siamo venuti a bere un caffè. Scusatemi, purtroppo non posso farvi accomodare così perché non vanno a mettere le distanze. In che senso il tipo del loro? Un comando qua. No, un comando. Quanti possiamo stare? Adesso che si sono alzati i signori vi devo far spostare. L'unica cosa è che devo agilizzare un attimo il caffè. Ok, ci sta. Ma quindi questo è... No, questo è... Adesso siamo su TikTok. Ma tu sei gatti, ma... Sì, stanno spammando anima in chat. Un attimo che mi stai chiamando la madre che non vuole che torna qui tutto il caffè. Va bene, tranquillo. Ragazzi, prendete un caffè con Ben. Eh, lo possiamo, non ci fassi bene. Ma che cazzo... Sì, Tudor stanno con il caffè. Merda, scusami, ma tu sei as... Ma io ho capito chi siete voi, ragazzi. Scusate, mi avete più in capito. In un momento in cui sono veramente... Sono veramente morto. Sono qua... Scusate, cosa? Io ti vedo ogni tanto in chat. Com'è che ti chiami? Che conto conosco? Yakinoff. Filippo. Ecco. Vedi, che conoscevo male. Tu te che mi hai peccati. Volevate far finta di rubarmi il telefono, tipo? No, no. Volevo arrivare da dietro e farti dal mio portafoglio. Ok, ma tu non c'ho il portafoglio. Vabbè, allora il telefono. Non volevamo farti panicare per le tue. Ah, quindi possiamo sederci qua? Ma voi sicuri che volete rimanere? Sì. Oì, caro, iettino, che anima... Oì, caro... È stato un piacere, Gabriele. Me ne devo andare. Esatto. Arrivederai. È arrivato veramente poco questo caffè. È arrivato il momento. Davvero? Yes. Perché? Dai, perché ora dobbiamo manare per quegli aperitivi un'oretta. Ma ho ordinato il caffè, oppure? Ok. Non l'hai preso? Eh, l'ho già preso. È qua, questo? È questo. È questo il caffè. Allora, prendi il caffè e poi... Ok. Vabbè, bevo il caffè al volo e me ne vado. Vado a prendere il caffè al volo e me ne vado. Ok, la mia ricarica giornaliera l'ho presa. Niente, ragazzi, vi saluto allora. Abbiamo ampezzato il caffè ma è stato impedito. Bazziamo il caffè. Ma come mai eravate in giro? Cosa stavate facendo? Un giro al caffè. Un giro al caffè sta bello. Invece? Io mi sono spiegato un'ora fa, quindi stavo ancora un attimino un po' stordito. Perdonatemi. La modalità pull up non è funzionata. No, no. Però mi è piaciuta l'idea. Mi è piaciuta assai. Oh, un bacione, raga. Ciao. Grazie, ciao. Mi hanno capito un c***o di tutto quello che è successo. Non lo so perché mi abbiano cacciato. Non stavo facendo niente. Forse stavano chiamando il bar. Non ho pagato il caffè. Merda, non ho pagato il caffè. Non ho pagato il caffè. Non ho pagato il caffè. Posso pagare il caffè, eh? Mi ero dimenticato di pagarlo, scusami. Scusi, eh. No, capito, lo sai, con me non c'erano problemi, però in alcuni momenti ci possono essere. Ok. Normalmente no. No, vabbè, ti capisco, tranquillo. Ciao. Ciao, caro. Buona giornata. Ciao. Ciao.